A sta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 4. Riaccoci qua ragazzi con il nostro caro Rico e oggi andremo a fare una cosa davvero fighissima. Andremo ad abbattere tutti i 24 dirigibili di sorveglianza della mano nera che stanno fluttuando nei cieli di Solis. Quindi ragazzi questa qui è una vera e propria missione secondaria per Sargento, vanno abbattuti tutti questi 24 dirigibili che stanno in giro per Solis per aiutare proprio Sargento e l'armata del Chaos. In più ragazzi andando ad abbattere il 100% di questi dirigibili andremo a sbloccare il dirigibile Emsavion nei rifornimenti e ovviamente nel prossimo videotest lo andremo a testare. Ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso videotest in cui ragazzi siamo andati a testare questo fantastico microcaccia PA. Quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati. Detto questo adesso ragazzi è arrivato il momento di andare ad abbattere tutti questi 24 dirigibili. Possiamo usare quello che vogliamo, quindi sia le armi tipo lanciarazzi e railgun che abbiamo disponibili, ma sia anche tutte le altre armi e tutti appunto i veicoli che vogliamo. Quindi iniziamo. Ecco ragazzi, dirigibile della sorveglianza distruggi il dirigibile, quindi facciamo traccia, lo dobbiamo tracciare per sapere precisamente dove si trova così il tutto è comodo. E qui ragazzi ci troviamo alla base caschillo Svacios, quindi andiamo. Eccolo qua ragazzi, lo vediamo in aria, sta fluttuando, quindi andiamo di Sky Striker, lanciamo tutti i missili che abbiamo ed ecco qua ragazzi, fatto, dirigibile della sorveglianza distrutto. Ecco qua ragazzi, mamma mia, è stato semplicissimo, davvero facilissimo. Adesso ragazzi ci troviamo nella base Prospero Aerospatiale e qui ce ne sono addirittura due, uno è qui e l'altro è qui. Quindi ragazzi, doppia distruzione, facciamo traccia ed eccolo lì ragazzi. Quindi lo miriamo con la railgun e vediamo di distruggerlo semplicemente, quindi vai. Ok, colpito ragazzi, già il fumo, mamma mia. Vai, distrutto ragazzi, fatto, dirigibile della sorveglianza distrutto. Perfetto ragazzi, ok, perfetto. Qui ne abbiamo un altro appunto, sempre nella stessa base e qui andiamo di Sky Striker. Quindi, subitissimo, vai di lancio di missili tre volte. Ok ragazzi, mamma mia, distrutto anche stavolta facilmente, non ci vuole davvero nulla. Ok, perfetto. Adesso ci troviamo nella base di Puerto Tullu. Qui ce n'è solamente uno, quindi ragazzi lo tracciamo ed eccolo lì davanti a noi. Quindi usiamo il lanciarazzi stavolta. Vai Rico, distruggi, che è quello che ti riesce meglio, vai! Attenzione ragazzi! Ok, fatto, adesso sì che ci siamo. Dirigibile della sorveglianza distrutto, questo è già il quarto. Oh, nuove squadre, arriviamo anche al livello 14. Un'intera armata del caos, perfetto ragazzi. Rico lo scavezza collo, trofeo guadagnato. Mamma mia ragazzi, quanti trofei oggi inaspettati tra l'altro. Ok, squadre ricevute, continua, perfetto ragazzi. Ne abbiamo 31 adesso di riserve, che comunque sono tantissime. Poi non so se effettivamente ci serviranno o meno in futuro. Adesso ragazzi ci troviamo nella base Academia One Eye. E qui ce n'è solamente uno, quindi sarà facile. Traccia. Eccolo qui ragazzi, davanti a noi. Usiamo la Railgun stavolta. Vai Rico, carica la Railgun e distruggiamo sto dirigibile. Della mano nera. Ok, vai. Fatto ragazzi, benissimo. Dirigibile della sorveglianza distrutto, benissimo. Ok, ogni volta abbiamo anche i Sargento Crediti, che poi ci permettono di sbloccare le mod per il sollevatore, per i palloncini sollevatori, quindi perfetto. Adesso ci troviamo nella base chiamata Puerto Malaga. E qui ce n'è solamente uno. Quindi tracciamolo, usciamo di qua. E ragazzi, ce l'abbiamo praticamente davanti. Quindi vai di Sky Striker. Vediamo ragazzi. Ok, distrutto. Perfetto. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Ok. Abbiamo i Sargento Crediti. Benissimo. Vai. Benissimo ragazzi. Ce la stiamo facendo pian piano. Li distruggeremo tutti. Adesso ci troviamo nella base Academia Caccia. E qui ce ne sono ben due. Ne abbiamo uno qui e uno qui ragazzi. Quindi li andiamo a distruggere entrambi. Quindi lo tracciamo. Usciamo. E andiamo di Railgun stavolta. Quindi vai Rico. Carica sta cavolo di Railgun. Rilascia. E fa esplodere tutto. Dai ragazzi che ci siamo. Pam. Fatto. Dirigibile della sorveglianza distrutto. E adesso ragazzi passiamo al prossimo. Perché è vicinissimo. Eccolo qui ragazzi. Davanti a noi. Quindi andiamo di Sky Striker stavolta. Ok. Dobbiamo colpirlo meglio ragazzi. Quindi andiamo di Railgun a sto punto. Attenzione. Vai. Ok ragazzi. Ancora. Resiste. Questo è resistente. Oh. Perfetto raga. Ce l'abbiamo fatta. Ecco la mano nera. Appunto ci inizia a disturbare. Ecco i Sargento Crediti. Stanno salendo piano piano ragazzi. I Sargento Crediti. E così appunto sbloccheremo presto un'altra mod sollevatore. Adesso ragazzi siamo nella fabbrica di auto Prisa Automobile. E qui ce n'è solamente uno. Quindi lo tracciamo. Siamo armati di elicottero d'assalto Bloodhound. E quindi ragazzi andiamo di lanciamissili. Quindi vai. Va Rico. Lancia lancia. Madonna ragazzi. Che facilità così. Mamma mia. Tutto semplice. Ok. Anche Sargento è contentissimo. Ecco i Sargento Crediti che ci spettano. Benissimo raga. Stiamo salendo con i Sargento Crediti. Adesso invece siamo nella base Puerto e Spada. Quindi ragazzi qui abbiamo solamente un dirigibile. Traccia. Ok. E ce l'abbiamo praticamente davanti. Quindi vai Rico con le mitragliatrici. Vai di missili. Madonna ragazzi. Sì in due secondi lo facciamo fuori. Oh. Dirigibile della sorveglianza eliminato. Ecco i Sargento Crediti. E ragazzi andiamo alla ricerca di altri dirigibili. Adesso ragazzi ci troviamo in Nueva Voz. Una città molto importante a Solis. Siamo nella parte centro. Nella parte appunto a sud. Verso il mare. E qui ragazzi abbiamo due dirigibili. Uno qui. E uno qui ragazzi. Quindi appunto li andremo a distruggere tutti e due. Vai. Ok. Ed eccolo qui ragazzi. Ovviamente la mano nera non vuole che distruggiamo questi dirigibili. E sta facendo di tutto. Per mandarci elicotteri, droni, carri armati. Tutto quello che può. Ecco i Sargento Crediti. Perfetto. Adesso andiamo a distruggere il secondo dirigibile di Nueva Voz. Con il carro armato. Per cambiare un po' ragazzi. Quindi lo colpiamo. Vai. Oh. Benissimo ragazzi. Anche da qui lo abbiamo fatto fuori. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Benissimo. Sargento Crediti. Benissimo. Grazie. Grazie Sargento. Mod sollevatore sbloccata. Questa è già la seconda che sblocchiamo oggi ragazzi. Quindi perfetto. Adesso ragazzi siamo in questo aeroporto. Chiamato Aeropuerto Nueva Voz. E qui c'è appunto solamente un dirigibile. Quindi traccia. Noi siamo già appunto qui con il piccolo caccia PA. Il micro caccia. Quindi ragazzi lo spariamo di brutto. Vediamo un po'. Distrutto ragazzi. Fantastico. Ce l'abbiamo fatta subito. Ok. Tanti nuovi Sargento Crediti. Benissimo ragazzi. Adesso ragazzi ci troviamo in questa enorme cava chiamata Mina Vendaval. E qui c'è appunto il dirigibile. Quindi traccia. Noi abbiamo sempre il micro caccia PA. Quindi ragazzi diamoci da fare. Vai Rico. Spara con tutto quello che hai. Vai con la mitragliatrice. Fatto ragazzi. Perfetto. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Altri Sargento Crediti. Quindi ragazzi stiamo avanzando. Tra poco finiremo di distruggerli. Tanto poi penso che non li vedremo più ragazzi. Una volta distrutti tutti. Non ne faranno altri. Adesso ci troviamo in una base molto importante. Zona 3. E qui c'è appunto il dirigibile. Uno solo da quello che vedo. Traccia. Abbiamo sempre il nostro micro caccia PA. Quindi ragazzi. Facciamo faville con questo caccia. Con la sua mitragliatrice. Li distruggiamo subito questi dirigibili. Anche da lontano. Perfetto. Oh Sargento ancora una volta. Contentissimo. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Sargento Crediti. E andiamo avanti così. Adesso ragazzi. Ci troviamo in questa base. Chiamata Nodo Difensivo 1. Molto importante. E qui appunto. Nei dintorni di questo Nodo Difensivo. Abbiamo un dirigibile. Facciamo traccia. Ragazzi. Adesso abbiamo il fantastico caccia fellowk. Davvero gigantesco. E potentissimo. Abbiamo sia mitragliatrice. Che appunto missili. Quindi possiamo distruggerlo tranquillamente. Vai. Distrutto ragazzi. Mamma mia. I pezzi che volano dappertutto. Ok. Dai. Sargento Crediti. Un'altra volta. Benissimo. Sargento raga. Sarà al settimo cielo. Di tutto quello che stiamo facendo. Perché solo Rico è in grado di distruggere appunto. Tutti questi dirigibili. L'armata del caos da sola. Poco lo credo. Adesso ci troviamo in questa base. Chiamata Estacion Atalaya. Qui ragazzi. Abbiamo un dirigibile. Traccia. Abbiamo sempre il nostro caro. Caccia fellowk. Raga. Andiamo di missili. Guardate. Mamma mia. Anche qui. Con questo caccia. Facilmente raga. Lo distruggiamo. Ok. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Sargento Crediti. Sargento Contento. Ok. Il risultato è sempre lo stesso. Adesso ragazzi. Ci troviamo in quest'altra base. Chiamata Campo Infierno. E qui appunto. C'è un dirigibile. Un po' lontano dalla base. Traccia. Ragazzi. L'abbiamo davanti a noi. Vai Rico. Sganci i missili. Vai. Sì. Fatto ragazzi. Mamma mia. Oh. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Sargento Crediti. Perfetto. Adesso ci troviamo in un'altra cava enorme. Chiamata Mina Rocca Negra. E qui ragazzi. C'è appunto un dirigibile. Solo uno. Traccia. Abbiamo ragazzi. Il nostro caro carro armato. Ricognitore Point Man. Quindi. Cominciamo a sparare. Vai. Tre colpi ragazzi. Buttato giù. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Ok. Sargento Crediti. Ok. Sargento stavolta sembra che non dica nulla. Perfetto. Adesso ragazzi. Ci troviamo in un'altra base. Chiamata Prospero Tankes. E qui abbiamo un bel dirigibile. Traccia. Abbiamo ragazzi. questo carro armato Priest Fighter. Andiamo di cannone. Vai. Vai. Colpisci. Perfetto ragazzi. Due secondi ci abbiamo messo. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Sargento Crediti. E sargento che parla. Davvero contentissimo. E certo ragazzi. È normale. Lo stiamo aiutando. Adesso ragazzi. Ci troviamo in questo porto. Chiamato Puerto Diego. Qui abbiamo davanti a noi un dirigibile. Quindi. Traccia. E andiamo ragazzi. Di Sky Striker. Quindi guardate quanti missili. E la madonna raga. Che esplosione incredibile. E quanti pezzi. Oh. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Altri. Sargento Crediti. Benissimo. E abbiamo fatto incazzare anche la mano nera ovviamente. Adesso ragazzi. Ci troviamo in quest'altra base. Chiamata Grand Central. E qui davanti a noi abbiamo un bel dirigibile. Uno solo. Traccia. Ragazzi. Andiamo di lanciarazzi ovviamente. Cambiamo un po'. Ogni volta cambiamo no? Vai. Tre colpi. Tre colpi ragazzi. Distrutto. Dirigibile. Sorveglianza distrutto. Altri. Sargento Crediti. E stiamo arrivando verso la fine. Ne mancano altri due. Adesso ragazzi. Ci troviamo in quest'altra base. Chiamata la Masmorra. E qui ragazzi. Abbiamo il penultimo dirigibile. Poi abbiamo l'ultimo. E abbiamo finito. Quindi. Traccia. Lo abbiamo davanti a noi. Andiamo ragazzi. Di Sky Striker. Tre lanci di missili. Fatto ragazzi. Tre lanci di missili. Una certezza insomma. Dirigibile della sorveglianza distrutto. Ok. Sargento Crediti. E ragazzi. Adesso andiamo a beccare l'ultimo. Adesso ragazzi. Ci troviamo in quest'altra base. Chiamata Prospero Balistica. E abbiamo qui l'ultimo dirigibile. Quindi ragazzi. Una Goduria. Quindi lo andremo a distruggere. E sbloccheremo appunto. Il dirigibile Emsabion. Che andremo a testare. Quindi. Traccia. Ragazzi. Lo abbiamo davanti a noi. Quindi. Carichiamo la Railgun. Stavolta andiamo di Railgun. Vai. Dai ragazzi. Ecco il fumo. Carichiamola tutta. Vai. Distrutto ragazzi. L'ultimo. Dirigibile della sorveglianza. E più duramente cadono. Trofeo guadagnato. Di bronzo. Fantastico ragazzi. E con questo sono tre trofei. No? Tanta tanta roba. Ok. Prospero balistica. Uno su sei. Perfetto. Oh ragazzi. E ci siamo toti davanti i dirigibili. Dirigibile Emsabion. Nei rifornimenti. Eccolo qua ragazzi. Che Goduria vederlo qui. Oh. Adesso. Andiamo subitissimo. Nei rifornimenti. Vedo già la scritta. Nuovo. Modifica arsenale. E ragazzi. Andiamo appunto. Ai veicoli normali. Veicoli civili. Ed eccolo qua ragazzi. Dirigibile Emsabion. Non vedo l'ora di andarlo a testare. Ma lo faremo nel prossimo videotest. Così lo testiamo per bene. E lo analizziamo. E ci divertiamo anche. Quindi ragazzi. Che dire. Oggi davvero un episodio della madonna. Davvero molto molto produttivo. Abbiamo abbattuto finalmente tutti quei 24 dirigibili della sorveglianza della mano nera. Che erano davvero fastidiosi. E andavano tirati giù. E tra l'altro. Cosa molto importante. Siamo saliti di livello del caos. Infatti ragazzi. Con tutta la distruzione che abbiamo fatto. Siamo arrivati al livello massimo. Che è il 14. Infatti abbiamo sbloccato. Il trofeo specifico. Del raggiungimento del livello 14. Il livello massimo dell'armata del caos. Ma non è finita qua ragazzi. Perché si è sbloccata anche la roccaforte. Qui dice. Sargento ha bisogno di aiuto con qualcosa di grosso. Ma non vuole dirti di cosa si tratta. Quindi. La cosa ragazzi. È molto molto misteriosa. E a me piacciono le cose misteriose. Quindi andremo a fare prima tutti gli addestramenti. Delle reclute di sargento. Che sono parecchie. Una volta fatto tutto. Andremo a fare per ultima la roccaforte. Credo che si sia sbloccata. Perché ragazzi. Abbiamo praticamente soddisfatto. I sargento crediti necessari. Per sbloccare questa roccaforte. Che erano tipo 8000. Quindi sicuramente abbiamo soddisfatto. I requisiti che servivano. Se no non si sarebbe sbloccata. Quindi ragazzi. Molto molto bene. Tra l'altro abbiamo sbloccato tre trofei. Solo in questo episodio. Davvero un episodio. Dalla madonna. Davvero esplosivo. E secondo me. Per certi versi. Anche divertente. Ovviamente. Fatemi sapere la vostra. Su tutto questo episodio. Fatemi sapere. Se vi è piaciuto. O meno. Se è stato divertente. Divertente per voi. E fatemi sapere. Se è stato magari di aiuto. Tipo una guida. Anche se io non faccio le guide. Per il fatto ragazzi. Che sono andato nei vari punti. E ho mostrato dove si trovavano. Appunto. I dirigibili. Quindi appunto. Se per caso. Vi è stato d'aiuto. Fatemelo sapere. Qui sotto. Nei commenti. Quindi ragazzi. Io spero che questo video. Vi sia piaciuto. E che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi. Lasciate un like. Condividete. Iscrivetevi. Se non siete iscritti. E ricordatevi sempre. Che io. Tornerò. Io. Tornerò. Una iz приехata.